Con questo esercizio voglio farvi vedere come si applicano le derivate alla fisica, in particolare alla cinematica. Ecco, si ha un punto materiale che si muove lungo l'asse x, quindi un moto unidimensionale, quindi una particella che si muove lungo questo asse. Allora, qui mettiamo lo zero dell'asse e la velocità sia in funzione della posizione, non del tempo. Quindi v di x è uguale a 2 più 2 seno di x. Ecco, questa sia la velocità del punto materiale, che è funzione della scissa, cioè della posizione che occupa il punto materiale sull'asse x. Il problema ci chiede di calcolare l'accelerazione in corrispondenza di x uguale a pi greco sesti. Ecco, vi faccio notare che la velocità non è funzione del tempo, quindi l'accelerazione, ragazzi, voi sapete dalla teoria che è uguale alla derivata della velocità rispetto a che cosa? Rispetto al tempo. Noi abbiamo invece la velocità in funzione della posizione, quindi utilizzando la tecnica di calcolo che si avvale dei differenziali, che cosa facciamo? Moltiplichiamo e dividiamo per dx, perché appunto dx è il differenziale della variabile x e si può tranquillamente trattare con le regole dell'algebra, quindi vedendo il dx come una vera e propria quantità. Quindi moltiplico e divido per dx, che cosa? L'accelerazione, che è dv rispetto in funzione dx su dt. Ora, vedete, qui c'è una moltiplicazione, quindi adesso metto insieme questo dx con questo dt, quindi scrivo dx fratto dt, quindi dx fratto dt per dv fratto dx. Questo lo posso fare perché questa è una con numeratore e denominatore, e qui lo stesso, questo è il differenziale della velocità, diviso il differenziale del tempo, quindi numeratore e denominatore. Quindi posso scrivere una nuova frazione dx su dt per dv su dx, quindi dv funzione dx su dx. Ecco ragazzi, questa che cos'è? È la derivata della posizione rispetto al tempo, altro non è che la velocità, giusto? Quindi scriviamo, allora cancelliamo questa riga, a è uguale alla velocità per, ecco ma noi la velocità ce l'abbiamo in funzione della posizione, per la derivata della velocità rispetto a x, quindi dobbiamo fare essenzialmente la derivata rispetto a x di questa espressione, che fa appunto, anzi, riscriviamo dv su dx e poi al posto di v ci mettiamo questa espressione qui, 2 più 2 seno di x, questa è v, per la derivata della velocità rispetto alla x, quindi la derivata rispetto a x di questa espressione, di questa funzione, che fa, quindi la derivata di 2 è 0, più la derivata di questo è 2 cos x, quindi per 2 coseno di x. Ecco, vedete ragazzi, siamo riusciti a ottenere l'espressione dell'accelerazione in funzione non del tempo, ma della posizione x. Quindi adesso è un gioco da ragazzi calcolare l'accelerazione per x uguale a pi greco sesti, quello che ci chiede l'esercizio, quindi basta andare a sostituire pi greco sesti alla x, quindi 2 più 2 volte seno di pi greco sesti, che moltiplica 2 coseno di pi greco sesti. Ora pi greco sesti rappresenta l'angolo di 30 gradi, quindi il seno di 30 gradi è un mezzo, un mezzo per 2 fa 1, più 2 fa 3, quindi 3 per 2, questo qui, poi coseno di 30 gradi, il coseno di 30 gradi è radice di 3 mezzi, quindi per radice di 3 mezzi. Questo è uguale, ovviamente, questo e questo si semplificano, 3 radice di 3. Ecco, questo è il valore numerico dell'accelerazione e l'esercizio è così terminato. Adesso, ragazzi, vi invito a visitare il mio sito blog di matematica gratuita, ilmatemato.blogspot.com, a iscrivervi a questo nostro canale YouTube se vi piace, a condividerlo con il maggior numero possibile di persone che conoscete, a fare clic su mi piace, questo per noi è importante, per voi è gratuito ovviamente, così ci permetterete di portare avanti questo progetto didattico. Adesso io vi saluto e ci vediamo alla prossima, ciao!